Il Browning Automatic Rifle, noto come BAR, era un'arma da fuoco automatica sviluppata dal famoso inventore americano John Browning durante la Prima Guerra Mondiale e adottata dall'esercito degli Stati Uniti nel 1918. Il BAR era un fucile automatico raffreddato ad aria, alimentato da un caricatore staccabile con una capacità di 20 colpi. L'arma utilizzava il calibro .30-06 Springfield. Il fucile era dotato di un bipede regolabile che consentiva all'artigliere di appoggiarlo a terra per aumentare la stabilità e la precisione durante il tiro automatico. L'arma era apprezzata per la sua affidabilità e funzionava bene in condizioni difficili. La manutenzione era ridotta, la potenza di fuoco e la capacità di mantenere un volume di fuoco sostenuto sul campo di battaglia erano apprezzate e, anche se il BAR era piuttosto pesante e costoso da produrre, divenne un'arma fondamentale per il supporto della fanteria.